Mi chiamo Leonardo, ho una patologia cronica e vi spiego perché per me il Covid è ancora a rischio. Io ho una patologia renale familiare. Nel 2009 sono entrato in dialisi e alla fine, nel 2012, dopo tre anni, sono riuscito ad ottenere l'accesso al trapianto di rene. Come trapiantato ho risolto un problema, che è quello di essere attaccato a una macchina, perché adesso ho un rene che lavora per quelli che non funzionavano, che non ho più. Per permettere di mantenere questo rene e non avere il rigetto, devo prendere gli immunosoppressori. Questi immunosoppressori ovviamente mi espongono a qualunque tipo di infezione e giri. Se passa un batterio vicino a me comincio a fare le feste. Quindi il Covid per me è stato un momento di pubblicazione della fragilità, un momento in cui ti rendevi conto che non potevi esporti e dovevi dire che non potevi esporti. Ho fatto tutte e tre le dosi in sequenza, partendo appunto fra i primi vaccinati, la prima, la seconda e la terza. Dopo la quarta dose ho preso il Covid. E quindi ho avvertito immediatamente il centro trapianti, il mio medico curante, il centro di nefrologia e dialisi che mi segue. E loro mi hanno immediatamente messo in contatto con il centro più vicino per fare la terapia monoclonale. Diciamo che poi è passato tutto quanto. Quello che continuo a sentire, al di là del senso di spostatezza, quello che sento molto che mi viene da collegare all'avere avuto il Covid, è il respiro corto, molto corto. Sì, l'età avanza, però insomma credo che anche il Covid possa aver avuto il suo peso. E credo che sia importante che non si perda la memoria di queste attenzioni che abbiamo tenuto. Io vedo in giro che c'è molta facilità di comportamenti, come se fosse tutto passato. Io per esempio quando prendo i mezzi pubblici o vado in locali pubblici, metto la mascherina, la FFP2, ti guardano come se fossi uno viettatore. Credo che sarebbe il caso invece di mantenerlo. Noi tra l'altro come Associazione Malati di Reni abbiamo continuato a dire a tutti quanti di continuare ad usare tutte le precauzioni possibili, anche chi non è immunosoppresso. Perché poi se girano portatori più o meno sani di patologie, più o meno trasmissibili, alla fine rispondiamo tutti quanti. Quindi sarebbe più interessante che avessimo invece quella che ci è sembrato in quel periodo fosse una coesione sociale. Ecco, questa è una cosa che a volte sento manca un po' nella nostra sanità, la prevenzione. Siamo brevissimi, abbiamo le eccellenze, lo dimostra i trapianti, nella gestione delle malattie e delle emergenze, nella prevenzione un po' meno. Io auspicherei che nel futuro ci fosse maggiore prevenzione, che porterebbe anche ad avere meno costi. Applichiamola tutti i giorni, facciamola applicare dagli operatori sanitari e applichiamola noi, che siamo la parte più importante, perché siamo quelli che poi risentono della mancanza di tutto questo.